Sono circa mille i pannelli rubati nella notte tra domenica e lunedì in un campo fotovoltaico in località Cartoceto per un valore di oltre 150 mila euro. L'impianto che produce energia verde alternativa è ben protetto da sistemi di allarme e di video sorveglianza, ma questo non ha scoraggiato i malviventi che una volta eluso l'allarme si sono introdotti all'interno del recinto ed hanno potuto lavorare indisturbati tutta la notte caricandoli su un mezzo pesante che una volta riempito non ha consentito loro di portare via altri pannelli staccati che sono rimasti così ammassati a terra. Ora per ripristinare il tutto ci vorranno almeno due settimane, il danno però in termini economici ci raccontano al telefono i responsabili della ditta Watt Service di Bolzano, proprietaria dell'impianto, non è tanto il costo vivo degli stessi pannelli che si aggira ormai intorno ai 150 euro cada uno, ma il mancato guadagno in quanto la produzione di energia alternativa del campo è di 4000 kWh al giorno, occhio e croce il consumo medio annuale di una famiglia di 4 persone ed il campo ora dopo il furto produce solo il 50% del suo potenziale. Cosa che tra l'altro ha consentito di scoprire il furto visto che la ditta che gestisce la manutenzione dell'impianto si accorta nella mattinata dell'ammanco di energia e facendo un sopraluogo ha scoperto intere file di supporti senza pannelli. Ora le immagini dell'impianto di video sorveglianza sono al vaglio dei carabinieri di Fano che coordinati dal capitano Alfonso Falcucci stanno indagando sulla dinamica del furto.